Il calcio è un modo per stare insieme, divertirsi e togliere qualche pensiero di troppo. Giuseppe ha 30 anni e gioca a calcio da circa 6. È un paziente psichiatrico che grazie al pallone è riuscito a seguire un percorso riabilitativo e a integrarsi nella società. È la storia di un ragazzo che partecipa all'undicesima edizione di Matti per il Calcio. Quattro partite al giorno, più di 200 persone coinvolte e 16 squadre in campo formate da persone con disagio mentale, medici, infermieri e operatori. Un risultato direi grandissimo, proprio così, dicevo un punto di arrivo ma un punto di ripartenza, quindi diciamo un po' la rappresentazione di un'attività che Wisp porta avanti da oltre 30 anni, diciamo il pallone, il calcio, il gioco come terapia. Nei tre giorni a Montecatini l'obiettivo è quello di mettere in fuori gioco discriminazione e pregiudizio per contribuire a favorire l'integrazione e vincere l'isolamento. Per me il calcio rappresenta gran parte della mia vita, già da piccolo ero appassionato di calcio e tuttora faccio calcio anche se ho una disabilità. L'appuntamento toscano è solo l'atto conclusivo delle tante attività sportive svolte durante l'anno dalla Wisp, attività che permettono a questi ragazzi con disabilità psichica di affrontare i rispettivi percorsi e le terapie farmacologiche con un atteggiamento diverso. In questi anni abbiamo visto passare veramente situazioni differenti, abbiamo visto i ragazzi riabilitarsi, abbiamo visto i ragazzi ripartire.